Ma per incontrere il VC4 Dobbiamo incontrere le corde. Abbiamo già tagliato. Ora incontreremo. Quindi, abbiamo scelto la scala con questo indicatore e vediamo che scala stiamo utilizzando. Questa stiamo incontreremo in scala 2. Scala 2. Abbiamo ottenuto la corda a 3.5 Questo è il passaggio di incontrere. Poi mettiamo la corda dentro con le corde con le corde con le corde con le corde e mettiamo la corde in posizione di incontrere. in questo modo abbiamo scelto la corde che è la potenza di burning e abbiamo scelto la pressione di incontrere o la pressione di incontrere in questo modo questa è la forza di la corde con le corde con le corde con le corde ok, scelto tutto è scelto quindi stiamo scelto automaticamente stiamo in posizione in posizione e mettiamo la corda in una volta in centro qui e facciamo l'annullamento non troppo con le corde 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 che è molto piccolo ma è molto forte